Non sarà una partita decisiva ai fini del campionato, ma è molto importante per loro. Allegri si presenta così il big match contro il Napoli, scherzando a distanza con Luciano Spalletti. Ho grande stima, ma è talmente buffo, divertente che ogni tanto litighiamo. Lui è il migliore ad allenare e insegnare. Io non sono allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Un pensiero per Agnelli, i numeri parlano per lui. Io lo ringrazio perché mi ha dato la chance di allenare la Juventus. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!